Terzo appuntamento radiofonico settimanale con la voce al Sindaco del 2022, la rubrica di approfondimento della testata giornalistica di Radio Dimensione Musica. Il primo cittadino pozzallese Roberto Ammatuna discute al microfono del nostro direttore responsabile Piero Giunta sui fatti sociali e politici avvenuti durante la settimana appena trascorsa. Il sindaco di Pozzallo, oltre a fare come sempre il preciso e puntuale punto informativo settimanale sulla situazione del Covid-19 a Pozzallo, alla voce al sindaco, parla della visita istituzionale a Palazzo Lapira del nuovo presidente del IACP, dottor Salvo Mallia. Il sindaco Ammatuna ha esposto al presidente Mallia la proposta di eseguire la messa in sicurezza degli alloggi con i fondi del PNRR. Inoltre, il primo cittadino pozzallese ha ragionato alla voce al sindaco sulla riapertura delle scuole a Pozzallo. Ascoltiamo Roberto Ammatuna. Apriamo la nostra terza chiacchierata radiofonica del 2022, sindaco Roberto Ammatuna, commentando come abitudine i casi Covid in città che a quanto si legge nei bollettini sono in costante aumento. Sindaco Ammatuna, le chiedo di darci a voce alta le sue raccomandazioni settimanali sul Covid a Pozzallo. In questo momento a Pozzallo si oscilla tra i 330 a 350 casi positivi. Abbiamo un ricoverato in questo momento che si trova in una condizione un po' precaria e speriamo che non ci siano assolutamente problemi. Questa settimana purtroppo è venuto a mancare per Covid l'ex vice sindaco di Pozzallo, Francesco Gugliotta. Questa è una grande perdita anche per la nostra città. Era un insegnante all'istituto tecnico-nautico molto apprezzato. È stato amministratore della città. Quindi in questo momento, al di là di questi casi gravi che sono accaduti, abbiamo complessivamente un quadro della malattia che dal punto di vista clinico non testa grande preoccupazione. Certamente l'omicron, così come sta accadendo in tutte le parti d'Italia e dell'Europa, contagia in una maniera esagerata. Ha una grande contagiosità rispetto alla delta, ma fortunatamente ormai questo è assodato da parte degli scienziati che non provoca dei sintomi, soprattutto polmonari, che poi sono i sintomi più gravi e molte volte sono letali. Colpisce le prime vie aeree. Ecco, quindi possiamo dire che sotto questo aspetto c'è una situazione di relativa tranquillità che presuppone una grandissima attenzione da parte di tutti noi e non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Sindaco, parliamo di politica pozzallefe. Come a me piace definirla quella in carne ed ossa, quella che fa le scende tutti i giorni le scale di Palazzo Lapira, quella che ragione riflette per trovare soluzioni ai tanti problemi di questa città. Lei ha ricevuto la visita del presidente della IACP, dottor Salvo Malia. Ecco, sindaco a Matuna, oltre ai convenevoli diritto, le chiedo quali sono le problematiche che lei ha esposto al nuovo presidente. Di cosa avete parlato? Martedì scorso è venuto a fare una visita istituzionale il nuovo presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolare di Ragusa, dottore Salvo Malia, a cui mi legano al di là delle collocazioni partitiche o politiche e dei sentimenti di grande stima e di grande amicizia. Abbiamo iniziato a lavorare insieme come medici all'ospedale civile di Ragusa e ci ritroviamo oggi qui con ruoli istituzionali a cui dobbiamo dare, come dire, seguito e concretezza. Io sono sindaco di una città in cui, insistono, sono state realizzate nel passato tanti alloggi con l'edilizia economica e popolare che attualmente si trovano in uno stato di grave precarietà e dal punto di vista strutturale e dal punto di vista dell'arredo urbano e dal punto di vista delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Quindi abbiamo approfittato della visita del dottore Malia a Pozzallo che era accompagnato dal nuovo Consiglio di Amministrazione ed alcuni tecnici per discutere e parlare a come dare soluzione a questi grandi problemi dove vivono parecchie famiglie pozzallesi. Subito dopo l'incontro in Comune abbiamo fatto un sopralluogo in Sono all'Istituto Autonomo a Case Popolari e ci si è accorti e si è toccato con mano il grande stato di precarietà di quelle strutture con perdite di acqua con problematiche varie quindi un problema di piccola manutenzione. Abbiamo poi visionato anche due palazzine in cui vi sono anche dei problemi strutturali. Il Presidente dell'OCP mi ha assagurato il suo massimo impegno a procurare i finanziamenti per cercare di consolidare dal punto di vista strutturale questo tipo di palazzine. Da alcune interlocuzioni del Presidente Malia con alcune aziende addirittura ci può essere la possibilità di abbatterle queste palazzine e di costruirle in una zona vicino a quella dove in questo momento sono allocate. Noi ci siamo fatti carico di dare indicazioni sulle eventuali aree che dal punto di vista urbanistico permetterebbero la realizzazione di queste palazzine e quindi ci dovremmo incontrare nelle settimane prossime per fare il punto della situazione. Quindi possiamo dire sinteticamente che il Presidente dell'OCP si è impegnato a procurare dei finanziamenti per costruirle ex novo questi alloggi e soprattutto da qui a breve termine di portare avanti dei lavori di manutenzione per alcuni aspetti di opere piccole, strutturali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno determinato e creato tantissimi problemi negli abitanti di questi alloggi. Quindi un incontro che è proficuo, un'interlocuzione che è appena iniziata che speriamo possa portare poi a soluzioni concrete. La mia ultima domanda di questa terza chiacchierata radiofonica è questa, Sindaco, a Matuna. Anche a Pozzallo si sono aperte le porte degli istituti scolastici. I ragazzi sono tornati tra i banchi di scuola con un poche preoccupazioni. Sindaco, com'è la situazione qui a Pozzallo? Lei sponga ai microfoni della voce al Sindaco. La situazione scolastica in città è identica a quella degli altri comuni della provincia di Ragusa. Come è noto noi siamo in zona gialla. Anche se c'è grande preoccupazione nelle famiglie, nei genitori, a mandare i figli a scuola perché il numero di casi positivi aumenta giorno dopo giorno, in perfetta linea con quello che è accaduto in provincia di Ragusa e in Sicilia. Quindi c'è la grande preoccupazione che la scuola possa rappresentare uno strumento, un veicolo di contagio. Io, insieme ad altri sindaci, eravamo convinti che ci poteva essere la possibilità di allungare le vacanze natalizie per altri dieci giorni. Avevamo pensato ad un'ordinanza tipo che dovevamo adottare tutti i sindaci della provincia di Ragusa con il consenso dell'autorità sanitaria competente che permettesse appunto il prolencamento ancora di qualche giorno e quindi andare a praticare la didattica a distanza. Tutto questo non è stato possibile. Non è stato possibile perché è vietato per legge che un sindaco possa emanare un'ordinanza col consenso sempre dell'ASPE e un'ordinanza di chiusura delle scuole. Il Presidente della Regione con l'ordinanza 1 aveva pensato che era possibile chiudere le scuole anche con la zona arancione e quindi c'era la speranza da parte di molte famiglie dell'istituzione di questa zona arancione anche in provincia di Ragusa. Così non è stato il Presidente della Regione emanato un'ordinanza che istituisce la zona arancione in 149 comuni su 391 che abbiamo in Sicilia. Col passare dei giorni un'ulteriore doccia fredda interviene il Tarre che sospende anche le ordinanze di chiusura delle scuole di quei sindaci che sono in zona arancione. L'ultima, quella dell'altro ieri di domenica è l'ordinanza del sindaco di Siriusa che pur essendo il primo cittadino di una città che è in zona arancione il Tarre ha sospeso quella sua ordinanza. Quindi in Sicilia si rientra a scuola ovunque sia in zona gialla e sia in zona arancione perché il decreto ministeriale i provvedimenti ministeriali e nazionali hanno sempre la prevalenza sui provvedimenti regionali e comunali. Quindi in parole povere il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha evidenziato che di fronte a una legge dello Stato che dà la possibilità ai sindaci di poter chiudere le scuole sempre, proprio parere dell'autorità sanitaria competente di fronte a un provvedimento nazionale che prevede solo la chiusura di queste scuole in zona rossa non poteva essere possibile la chiusura delle stesse scuole in Sicilia in zona arancione. Quindi nostro malgrado non abbiamo potuto emettere ordinanza chi l'ha emessa è stata bocciata quindi in tutta la Sicilia si rientra a scuola. Speriamo ecco che tutto questo non possa essere veicolo di ulteriore contagio anche se da parte di alcuni scienziati io direi anche la gran parte pare che ci sia la reale possibilità che già nei prossimi giorni si possa essere nella fase calante del contagio stesso e purtuttavia la preoccupazione c'è noi in questi giorni abbiamo sospeso anche la riflessione scolastica quindi guardiamo con grande attenzione quello che accade all'interno delle scuole e voglio complementarmi ancora con il dirigente scolastico il personale scolastico di Pozzallo per la grande professionalità per la grande attenzione per il grande sforzo che stanno portando avanti nel cercare di far mantenere non solo fra il personale scolastico stesso ma anche fra gli alunni dei comportamenti corretti che evitano il contagio veramente grandissimi complimenti al mondo della scuola per questo contributo così importante che hanno saputo dare nei mesi passati ma soprattutto per quello che hanno saputo fare e dare in questi giorni di così difficile situazione sanitaria Grazie Fintaco Con la voce al sindaco appuntamento a martedì prossimo ringrazio Roberto Amatuna Piero Giunta per Radio Dimensione Musica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti